Musica Bentornato Guter, bentornata Ora iniziamo a parlare di masterizzazione Per trasferire i file da un supporto ad un altro tu già ben hai applicato il classico copia e incolla ma in alcuni casi questa procedura non è applicabile come verso i supporti ottici per esempio in tal caso dovrai utilizzare un processo chiamato masterizzazione ma cos'è la masterizzazione? è il processo che prevede la scrittura dei dati, dei file, documenti, immagini e quant'altro su un supporto di memorizzazione ottico che è eseguito tramite un software ed un hardware i dati quindi vengono scritti in sintesi registrati su un supporto che può essere un CD, un DVD, un Blu-ray tramite un dispositivo chiamato masterizzatore il quale sfruttando un raggio laser incide, in termini meramente tecnico anche brucia la superficie del supporto stesso ricordando brevemente la differenza tra i vari supporti, tra i vari dischi ti cito solo, che principalmente la differenza, la quantità di dati memorizzabili sul supporto e il dispositivo che ne permette la scrittura sarà in grado di eseguire la masterizzazione solo se al suo interno è inserito un supporto compatibile un masterizzatore ad esempio Blu-ray potrà scrivere oggi su qualsiasi supporto mentre il corrispondente masterizzatore CD potrà scrivere solo su dei compat disk a seconda del tipo di tecnologia che è utilizzata per creare il supporto potrà realizzarsi una scrittura definitiva e in linea teorica permanente oppure non definitiva e non permanente se il supporto è di tipo scrivibile potrai realizzare soltanto una scrittura completa o anche parziale del supporto mentre se il supporto è riscrivibile ciò ti permetterà di eseguire idealmente indefinite scritture e cancellature del disco stesso le sigle più comuni che troverai sui dischi saranno in relazione al tipo di supporto troverai la lettera R come recordable ossia scrivibile oppure RW per revitable ossia riscrivibile esiste tra l'altro un'ulteriore suddivisione dei supporti che sono etichettati con il segno meno o il segno più e che sono monofaccia o doppia faccia queste ulteriori suddivisioni possono creare conflitti di incompatibilità tra i vari supporti, masterizzatori e lettori ma oggi fortunatamente questa limitazione se ne sente sempre meno in quanto i vari lettori e masterizzatori stanno sempre più implementando le loro capacità di gestione multiformato dei supporti quindi avranno la capacità di leggere e scrivere su tutti i supporti esistenti ad oggi ma come avviene la masterizzazione di un supporto? semplificando oltremisura le fasi sono inserire il disco nell'hardware ossia nel masterizzatore avviare il programma che permetterà la scrittura dei dati al suo interno selezionare i file che dovranno essere copiati sul disco ed infine avviare la masterizzazione in realtà però le azioni da eseguire sono un po' di più ma ciò è sufficiente come punto di partenza per far comprendere per grandi linee la sequenza del processo di masterizzazione l'enorme valanga di programmi di masterizzazione esistenti fa sì che la scelta sia definita in base esclusivamente alle necessità dell'utente esistono programmi molto semplici e leggeri che eseguono tale processo senza badare troppo alle finezze selezioni i file da copiare e avvii il processo senza neppure poter selezionare altri parametri un po' l'effetto del copia e incolla su un disco rigido o una periferica USB il programma di masterizzazione integrato nel sistema operativo Windows esegue proprio tale sequenza in pratica quando inserisci un supporto nuovo all'interno del masterizzatore e clicchi sull'icona dello stesso all'interno di Esplora Risorse una finestra di notifica si presenta come questa immagine in questa zona potrai scrivere il titolo del disco il nome del disco e poi potrai selezionare se utilizzerai questo supporto come unità flash oppure come in questo caso dovrà essere come lettore CD-DVD e come trascritto è un modo di masterizzare i dischi in modo da poter utilizzare tale supporto sulla maggior parte di computer e lettori normalmente quindi eseguirai quest'ultima selezione successivamente dovrai trascinare i file nella finestra di Esplora Risorse che si apre e infine cliccando sul pulsante Scrivi avvierai il processo di scrittura esso avrà una durata variabile in base al peso dei file da masterizzare sia al numero sia alla quantità di megabyte o gigabyte che dovrai copiare questa è la finestra che si presenterà a te cliccando come abbiamo detto sull'icona del masterizzatore potrai inserire all'interno di questa sezione i file che dovrai masterizzare successivamente cliccando su Scrivi su disco si avverrà il processo di masterizzazione per rimuovere i file li dovrai selezionare tutti e premere il pulsante Elimina file temporanei o il tasto Canch sulla tastiera se invece ne dovrai eliminare soltanto alcuni ti sarà sufficiente selezionarli e premere il tasto Canch sulla tastiera come vedi questo processo è rapido e semplice ma anche molto rigido infatti ciò significa che non potrai impostare i parametri che normalmente ritrovi in programmi creati da altre aziende da altri programmatori nell'utilizzare applicazioni SN a Windows infatti potrai selezionare altre impostazioni più o meno determinanti il minimo sindacale rappresenta la possibilità di selezionare quindi impostare il tipo di sezione se unica sezione o multisessione selezionare i file che dovrai masterizzare con una grafica che ricorda tipo Explorer Risorse ed infine la rapidità del processo di scrittura che è indicata con un numero seguito dalla lettera X come ad esempio 4x indica una velocità di scrittura di masterizzazione circa 4 volte maggiore del normale la velocità di masterizzazione attenzione è molto importante facciamo un esempio se tu prendi carta e penna e inizi a scrivere tracciando una sequenza di lettere e parole troppo velocemente un ipotetico lettore a cui fornirai questo foglietto potrebbe non essere in grado di decifrare la tua scrittura perché scritta in malo modo lo stesso discorso è applicabile al processo di masterizzazione se avviene in maniera troppo rapida potresti avere l'effetto collaterale che alcuni lettori non saranno in grado di leggere correttamente i file fino a rendere inutilizzabile il disco stesso per esperienza personale adotto una velocità cautelativa all'incirca di 4 o 8x in questo caso non ho quasi mai avuto problemi se non per qualche fallimento del processo di masterizzazione infatti aggiungo che una velocità molto elevata incrementa la possibilità che durante il processo di masterizzazione si possa verificare qualche errore e se per qualsiasi ragione il processo di masterizzazione venisse interrotto esso potrebbe senz'altro essere replicato ma purtroppo su un disco diverso in quanto il disco già iniziato parzialmente scritto bruciato di fatto viene reso inutilizzabile a meno di eventi straordinari nell'atto finale del processo di masterizzazione avviene un'azione chiamata finalizzazione ossia la chiusura del disco in pratica si esegue questo processo di finalizzazione in modo tale che il supporto sia considerato finito terminato impedendo la scrittura di ulteriori dati avrai in questo caso realizzato un disco che si chiamerà ad unica sessione questo permette di poter impiegare il disco all'interno di lettori classici come quelli da salotto o console per videogiochi o autoradio se stiamo parlando di compilation mp3 oltre naturalmente che all'interno di normali masterizzatori dei computer se il programma prevede la possibilità di non chiudere il supporto ossia non finalizzarlo entrerai nel campo della creazione di dischi in multisessione ciò permette di scrivere quindi copiare in fasi successive sul supporto finché tu non decida di chiuderlo in maniera definitiva perché ormai è saturo di dati ed iniziare la masterizzazione su un nuovo disco al vantaggio di poter scrivere in tempi diversi si contrappone però lo svantaggio che questo processo di masterizzazione multisessione priva spazio al supporto in pratica se possiedi un disco un DVD da 4,7 GB di capienza massima eseguendo una o più multisessione potrai copiare un numero di file il cui totale è inferiore ai 4,7 GB in pratica si riduce lo spazio disponibile del disco lo spazio perso sarà tanto maggiore quante più sessioni di masterizzazione eseguirai sintetizzando quando deciderai di eseguire un disco in multisessione potrai effettuare tale selezione all'atto della prima scrittura e continuare la scrittura sempre in multisessione ogni volta che vorrai aggiungendo file nuovi al disco finché deciderai di finalizzarlo di chiuderlo ogni volta che inserirai un disco all'interno del masterizzatore il quale è già stato iniziato in multisessione nel momento in cui avvierai il programma per la masterizzazione quest'ultimo riconoscerà la tipologia di masterizzazione avvenuta fino a quel momento e te la notificherà richiedendo una tua azione in modo da poter permettere di continuare con la stessa metodologia ossia continuare a masterizzare i dati in multisessione oppure decidere di terminare la multisessione chiudendo il disco finalizzandolo al termine dell'ultima sessione di questa sessione in corso ci troviamo all'interno del programma esplora risorse all'interno del masterizzatore ho inserito un disco riscrivibile quindi un disco che potrà essere utilizzato per scrivere diverse volte cancellarlo totalmente e in maniera completa o parziale finché la sua naturale vita lo consenta la sigla del disco riscrivibile in questo caso è RW cliccando sopra due volte rapidamente sull'icona del masterizzatore potremo avviare il processo di masterizzazione in questo caso utilizziamo il programma integrato all'interno del sistema operativo Windows 7 non potremo impostare molte funzioni come normalmente avviene utilizzando programmi di terze parti quindi clicchiamo rapidamente due volte sull'icona e avviamo il processo in questa schermata potremmo scrivere il nome del nostro disco potremmo scrivere disco di prova selezioniamo l'opzione con un lettore cd tvd quindi utilizzeremo questo disco o all'interno di lettori da salotto oppure all'interno di computer clicchiamo su avanti ora in questa sezione dovrà inserire i file che devi masserizzare prendiamo dei file da una partizione e spostiamoli in questa sezione tramite il drag and drop i file verranno copiati e qui avrà in basso la notifica che dei file sono in attesa di essere masserizzati una volta che i file si trovano all'interno della sezione esplora risorse in attesa di essere copiati masserizzati potrai decidere se eliminarli in maniera definitiva selezionandoli tramite questo pulsante oppure tramite il tasto cance oppure come in questo caso masserizzarli cliccando sul pulsante scrivi su disco cosa che facciamo in questo momento in questa sezione potrai decidere di selezionare la velocità di registrazione come vedi molto bassa in questo caso ma dipende anche dal tipo di supporto quindi lasciamo pure due per poi potrai decidere se chiudere la procedura guidata quindi questo programma di masserizzazione al termine del processo oppure lasciarla aperta ricorda però che non è riferita alla sessione di lavoro che in questo caso sarà unica quindi avrai a che fare con una monosessione e non una multisessione lasciamo deselezionato questo campo ed avviamo il processo di masserizzazione processo che avrà una durata variabile in base alla quantità di file che deciderai di masserizzare quindi alla grandezza alle dimensioni in termini di megabyte o gigabyte attendiamo pure il termine del processo di masserizzazione il processo come puoi vedere è terminato potrai decidere di replicare la stessa masserizzazione n volte su altri supporti in questo caso la deselezioniamo e cliccando sul pulsante fine avrà termine la procedura guidata nella prossima lezione terminerò i concetti sulla masserizzazione ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima ciao a presto 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 ciao a presto